Una mattinata qualsiasi di lavoro in centro storico, in Piazza Duomo continua la riqualificazione ma oggi iniziano anche i saldi. Siamo andati ad ascoltare le aspettative dei commercianti aquilani dopo mesi di disagi, la speranza è di recuperare qualcosa grazie agli sconti. Saldi e cantieri, anche all'Aquila oggi sono partiti ufficialmente gli sconti, tra cantieri e percorsi ad ostacoli per raggiungere i negozi, questo soprattutto in Piazza Duomo dove si sta lavorando per cercare di recuperare il tempo perduto a causa del maltempo. I commercianti sperano che la gente non si scoraggi e li vada a trovare lo stesso. Lo scacchiere della piazza è in continua evoluzione, molte attività si spostano dai vicoli vicini e scelgono il più fortunato corso. Ad ogni modo la speranza di tutti è che la riqualificazione di Piazza Duomo possa terminare prima possibile, del resto è il cuore della città, troppo importante. Ci aspettiamo un flusso di gente, speriamo che la gente nonostante i disagi dei vari cantieri del centro storico venga comunque nei nostri vicoli e sulla piazza principale della città, anche un po' per recuperare quelle che sono state le perdite dei mesi precedenti. C'è fiducia però per il futuro? Per il momento c'è fiducia, siamo fiduciosi, siamo stati fiduciosi quando abbiamo aperto l'attività nel centro storico, nonostante le difficoltà oggettive, siamo contenti che comunque è in movimento anche la ricostruzione, quindi c'è fiducia anche per questi saldi di quest'estate. Saldi e cantieri, il suo negozio è proprio in Piazza Duomo, ci sono stati molti disagi da quando sono iniziati i lavori, adesso pare si stia procedendo più speditamente, che cosa vi aspettate da questi saldi? Speriamo di recuperare quello che abbiamo perso un po' per il tempo, che è stata una stagione non buona, ma soprattutto per i lavori che ci hanno totalmente danneggiato, quindi il nostro augurio è quello di recuperare una parte del perduto. C'è un po' di difficoltà a raggiungervi però? Sì, sono tre mesi che siamo praticamente isolati per questi lavori che non si sa quando finiranno, ci sono stati rallentamenti enormi e quindi è difficile arrivare da noi, speriamo che la gente abbia comprensione e venga almeno a darci una mano in un periodo dei saldi.